Vi auguro una dolce notte con questo messaggio. Una chite. Preghiere esaudite. Hai fatto un ottimo lavoro e hai aperto le porte a soluzioni e aiuti divini. Hai fatto un ottimo lavoro nel perdonare, lasciare andare il passato e focalizzarti sulle positività e l'armonia. Il cielo rispetta il tuo libero arbitrio e scegliendo il sentiero di guarigione dell'amore hai aperto la porta affinché le tue preghiere venissero esaudite. Tutte le preghiere vengono ascoltate senza discriminazione, ma se nel tuo cuore abbiamo interrotto il contatto con Dio potremmo non sentire le risposte che ci sussurra. Anche avere un atteggiamento negativo può mettere in dubbio che i piani divinamente ispirati funzionino, spegnendo la fede. Questa carta indica che hai stabilito un contatto consapevole con l'amore di guarigione puro di Dio. Stai pregando con sincerità e sei disposto a essere guidato e aiutato. Questo cambiamento interiore positivo è una risposta alle tue preghiere per la pace e la felicità. Adesso anche le circostanze esterne cambieranno di conseguenza perché sospinte verso l'esito migliore e più elevato. Lunachite, combinazione naturale di tre gemme, Feldospato, Epidoto e Quarzo, che insieme creano una pietra dalle deliziose sfumature color pesca e verde. Con la sua energia dolce e gentile, Lunachite favorisce la guarigione fisica ed emozionale, ricordandoci che siamo tutt'uno con l'amore di Dio. Questo è il messaggio per augurarvi una serena notte.